I tifosi, radunatisi al centro di allenamento dei bianconeri, hanno chiesto un confronto con i giocatori. Gli ultra ha il grido di tirare fuori il punto punto punto, hanno manifestato la loro rabbia per i risultati negativi che hanno dapprima portato la Juve fuori dalla Champions e poi alla rimontata del Napoli.Juventus, a Vinovo e contestazione si legge sul sito di Sportmediaset il gruppo di tifosi radunatosi fuori da Vinovo ha chiesto spiegazioni e un confronto con la squadra dopo la brutta prestazione contro il Napoli, il calo di alcuni singoli ed eventuali sfuriate negli spogliatoi. Buffon ha parlato con una delegazione di tifosi bianconeri della curva, spiegando perché la squadra non è andata a salutare la curva stessa alla fine della partita con il Napoli.